Benvenute, buongiorno, mi auguro stiate tutte bene, entriamo nelle video lezioni che parleranno e affronteranno i nuovi temi del nostro programma e quelli che saranno oggetto di verifica nel momento del rientro, prima o poi. Vi ricordo, non vi do i nomi dei file in questo momento, che soprattutto vi ho allegato due documenti nuovi, un po' riassuntivi di quello che era stato anche il lavoro che avevamo iniziato in classe, avevamo guardato dei video, avevamo fatto alcuni brainstorming, avevamo messo a fuoco alcuni concetti. La prima scheda di due pagine inizia con sfera cognitiva, la seconda con psicologia cognitiva. Più o meno l'oggetto di interesse di questa parte di documentazioni e di video è lo stesso. In queste video lezioni cercheremo di dare le linee guida per quello che riguarda l'interpretazione delle schede, dei filmati e per portare a buon frutto lo studio, quindi non disperdere troppe energie. Vi ricordo che per quello che riguarda il libro di testo, le pagine interessate sono quelle da pagina 246 in poi. Vi segnalerò poi contestualmente rispetto magari a degli argomenti specifici a quale parte del testo o a quali pagine del libro ci riferiremo. Quindi dicevamo, sfera cognitiva è una delle due macro aree, una delle due sfere su cui si concentra lo studio della psicologia. L'uomo non si può separare, abbiamo detto in unità biopsicosociale, ciò nonostante alcuni studi si interessano di mettere a fuoco, tra l'altro il tema è proprio quello, compreso ovvero quello dell'attenzione, mettere a fuoco alcuni settori del comportamento e dei processi mentali umani. Quindi il sistema nervoso, ovviamente anche questo abbiamo parlato abbondantemente della funzione del sistema nervoso, il sistema nervoso è il nostro, diciamo, è la parte centrale del nostro essere, è un apparato, un insieme di sottosistemi, un insieme di funzioni che ci permettono da una parte di avere delle informazioni dal mondo che ci circonda e che quindi ci consentono di orientarci, dall'altra ci permette di agire nel mondo, di cambiare, di trasformare questo mondo attraverso le nostre azioni. Sfera cognitiva, dicevamo, soprattutto se pensiamo alla sfera cognitiva, centrale rispetto al verbo conoscere appunto di etimologia latina è il processo di conoscenza. Se noi parliamo di conoscenza, parliamo di pensiero e intelligenza, abbiamo però anche già accennato al fatto che il pensiero e l'intelligenza sono delle funzioni complesse. Ecco, ritornando un po' al discorso delle scuole psicologiche, pensiero e intelligenza sì, possono essere affrontate immediatamente dal punto di vista dello studio della psicologia. Certo è che è più naturale ed è più semplice partire da alcune parti che riguardano la cognizione, abbiamo detto alcuni mattoni che riguardano la cognizione, alcune funzioni mattone, sulle quali appunto il pensiero e l'intelligenza si reggono o appunto che fanno da base. Questo perché abbiamo detto funzioni come l'attenzione, la sensazione e la percezione, ma anche la memoria, sono funzioni senza la quale non sarebbe possibile concepire il nostro pensiero. Un pensiero che non si alimenta attraverso delle sensazioni o che non dialoga con la percezione o che non riesce a mantenere appunto le energie sul compito che sta svolgendo o che non riesce a, come possiamo dire, conservare delle informazioni con le quali ha preso in contatto. Ecco, un pensiero e un'intelligenza senza questa base sarebbe impensabile. Ora, noi appunto abbiamo detto, il nostro sistema nervoso assorbe, acquisisce informazioni da parte della realtà. Quando parliamo di informazioni, badate bene, dobbiamo intendere le informazioni che passano attraverso i nostri sensi, quindi quanta luce è presente in un ambiente, quali sono i colori, gli odori che ci sono in una stanza, i rumori, i suoni che sentiamo, la consistenza degli oggetti che ci stanno davanti. Tutte queste le possiamo chiamare informazioni, d'accordo con un termine generico. La quantità di informazioni che i nostri sensi riescono a raccogliere è elevata. È elevata da una parte per ognuno dei nostri sensi, quindi dal punto di vista della quantità, ognuno dei nostri sensi può percepire tante informazioni. Pensate soltanto al nostro corpo. Io sì sento la temperatura con il dorso delle mani, con la pelle del mio viso e del mio collo, ma anche tutta la pelle del mio corpo è a contatto e prende delle informazioni dai tessuti che coprono il nostro corpo. Noi sentiamo, diciamo, il calore e la consistenza del tessuto nel momento in cui ci stiamo infilando una camicia. Per esempio io sentiamo quella sensazione nel momento in cui la camicia l'abbiamo indosso e nel corso della giornata continuiamo a svolgere altri compiti, non continuiamo a sentire in maniera continuativa l'informazione della consistenza del nostro, del tessuto della nostra camicia. Oppure pensate, quando vi appoggiate su una parete fredda sentite immediatamente la sensazione di freddo, lentamente questa sensazione si attenua, dopodiché non fate più caso alla superficie che state toccando. Questo cosa vuol dire? Che le informazioni che noi assumiamo dai singoli sensi sono tante, e in questo senso abbiamo detto che l'esigenza fondamentale del nostro cervello nel momento in cui elabora queste informazioni è non rimanere sovraccaricato. Pensate un po', usando l'immagine del computer che tanto spesso abbiamo già adoperato e useremo nel momento in cui parliamo della mente, come avere appunto 100 pagine o 100 finestre di Windows aperte o 20 programmi che girano contemporaneamente. Cosa succederebbe? D'improvviso il computer rallenterebbe e non riuscirebbe a visualizzare tutta questa serie di informazioni. La stessa cosa di casi per il nostro cervello. Noi non continuiamo e non elaboriamo dal punto di vista cosciente tutte le informazioni che teoricamente i nostri sensi ci potrebbero dare. Questo perché dobbiamo appunto limitare la nostra energia e dobbiamo elaborare appunto un... Ricordiamoci infatti non è soltanto l'elaborare le informazioni acquisite, informazioni è solo una parte del processo, dopodiché dobbiamo anche agire, dobbiamo pensare a quelle che potrebbero essere le nostre azioni. Quindi da una parte abbiamo detto lo stesso senso, ha tante informazioni che vengono appunto filtrate, che vengono portate dentro al nostro sistema. Dall'altro pensate che ad ogni singolo senso se ne affiancano altri. Quindi abbiamo le informazioni che arrivano dal nostro gusto, quelle che arrivano dal nostro olfatto, dalla nostra vista e così via. Non è un caso che il primo aspetto relativamente alla sfera cognitiva che si studia è esattamente l'attenzione. Cosa ci dice il nostro libro? L'attenzione è proprio quel processo, leggo a pagina 247, è un sistema di regolazione selettiva dell'attività percettiva. In parte introduce già nuovi argomenti, il termine percettivo fa riferimento alla percezione, ma attenzione, è un sistema di regolazione selettiva, quindi la selezione, cosa vuol dire? La selezione è come se stessimo parlando di una scelta. Nelle schede anche ho usato un'immagine, quella della macchina fotografica. La stessa macchina fotografica, nel momento in cui la puntiamo sulla realtà esterna, non può mettere a fuoco tutto. Se percepisce nitidamente un oggetto vicino, quello che sta nello sfondo risulterà sfocato, e viceversa, se è messo a fuoco lo sfondo, quello che è vicino risulterà sfocato. Quindi questo che cosa ci dice? L'attenzione è il modo in cui noi selezioniamo gli stimoli della nostra attività sensoriale, delle informazioni che arrivano dalla realtà esterna. Dal punto di vista del fisico, quindi qui ritorniamo sull'hardware, sempre a pagina 247, ci chiarisce che l'attenzione dal punto di vista dei recettori sensoriali si traduce in una modificazione a livello fisico. L'attenzione comporta delle modificazioni anche a livello fisico, quando siamo attenti a determinati stimoli che provengono dalla realtà circostante, i nostri recettori sensoriali si adattano a questa particolare situazione, pensate soltanto alle pupille che si dilatano o che si restringono, e si verifica in generale una tensione muscolare. Quindi i muscoli, abbiamo visto anche questi fanno parte del nostro sistema nervoso, cambiano il loro stato, quindi entrano in tensione. Ovviamente nell'attenzione esistono diversi livelli e l'attenzione è stata studiata ed è un argomento che pur sembrando abbastanza semplice nell'esposizione che ne facciamo noi, è un argomento, è un fenomeno che presenta diversi livelli di approfondimento. Anche qui ci sono diversi modelli dell'attenzione, cioè diverse tentativi di spiegare il funzionamento dell'attenzione che tengono conto di specifiche informazioni, quando si attiva l'informazione, quando è che noi elaboriamo uno stimolo, quindi lo stimolo viene già elaborato prima che noi facciamo coscientemente, diamo attenzione alle stimole oppure no, è un argomento comunque complesso dal punto di vista tecnico e della psicologia. Ci sono interi studi, interi libri soltanto sull'attenzione, per cui cercheremo nel nostro caso, nella prospettiva del nostro studio, di semplificarlo il più possibile. Quindi abbiamo detto l'attenzione è un processo di selezione, ci aiuta a risparmiare energie dal punto di vista dell'elaborazione del nostro cervello, ci aiuta a non sovraccaricare la nostra attività cognitiva ed è il fenomeno per il quale noi selezioniamo degli stimoli, cioè facendo un esempio molto banale, di mille stimoli di cui potremmo tener conto, ne teniamo conto 10-20, diciamo. Quindi è un restringimento e un focus sugli stimoli che arrivano dall'esterno. Ci sono dei fenomeni interessanti collegati alla attenzione, appunto sicuramente si parlerà di attenzione selettiva, cioè nel momento in cui noi decidiamo in maniera cosciente dove direzionare la nostra attenzione. Per esempio io vi avevo fatto vedere in classe l'esempio del mago con le carte, quindi voi dovevate seguire un po' il gioco e quello che succedeva e abbiamo notato come nel momento in cui io selezionavo la mia attenzione su qualcosa in particolare, le carte, il numero della carta, eccetera, alla mia attenzione e alla mia coscienza sfuggissero tutta una serie di trasformazioni, di cambiamenti che di fatto percepivo, cioè il colore dello sfondo cambiava piuttosto che la maglietta di quella persona, ma nel momento in cui io non concentravo in maniera volontaria la mia attenzione su quello che stava succedendo, non ne prendevo coscienza o se mi avessero chiesto hanno cambiato maglietta le persone che c'erano nel video, io avrei detto di no. Così pure nella scheda che inizia con la sfera cognitiva vi ho invitato a visionare due video appunto di questi ragazzi che giocano con un pallone. In entrambi in casi, in quello che succede, l'avrete capito, comunque lì riprenderemo velocemente in classe, quello su cui io faccio attenzione determina anche allo stesso momento quello su cui non faccio attenzione semplicemente e quindi quello che mi può sfuggire. L'attenzione in parte è regolata dalla nostra coscienza, quindi dalla nostra volontà, io voglio osservare qualcosa, di sicuro ci sono anche però dei meccanismi automatici, ci sono anche, c'è una sorta di riflessi collegati alla nostra attenzione, per cui per esempio siamo attirati da forti rumori o da cambiamenti di luce, dal sentire un argomento che ci interessa, quindi esistono anche modi in cui la nostra attenzione reagisce in maniera automatica. Infine è sempre molto interessante sul funzionamento della nostra attenzione è l'effetto cocktail party, quello per il quale appunto saremo in grado di dirigere la nostra attenzione o saremo in grado di prendere coscienza di alcune realtà, di alcune informazioni che ci circondano, anche se coscientemente non ci sembrerebbe di farlo. Stiamo parlando con una persona vicino a noi, sullo sfondo altre voci, tante altre voci su cui non ci sembra di fare attenzione, d'improvviso il nostro nome o il nome di nostro padre, il nostro cognome ci fa deviare l'attenzione, mettere sullo sfondo la conversazione che stiamo avendo fino a quel momento e di reggerci su un altro obiettivo. Questo appunto viene chiamato l'effetto cocktail party e ci dà un po' anche l'idea di quanto possa essere diciamo elaborato e complesso anche un tema apparentemente semplice come quello dell'attenzione. Finisco questa prima parte della lezione appunto seguendo a questo punto la pagina 248 del vostro video, scusatemi, del vostro libro. Processi automatici e multitasking. Appunto il multitasking è un fenomeno conosciuto e del quale si parla tanto anche nella vita quotidiana, si scherza molto anche su questo fenomeno per il quale per esempio gli uomini non sarebbero multitasking, quindi in grado di svolgere più compiti contemporaneamente, quindi fare più cose contemporaneamente, dirigere la propria attenzione su più compiti contemporaneamente, mentre le donne sarebbero più multitasking, più in grado di svolgere questo tipo di attività. In realtà noi non entreremo sulla, diciamo non cercheremo di capire se queste leggende metropolitane o questi diciamo, diciamo questi racconti corrispondono al vero, ma ci interessa comunque capire che cos'è il multitasking, che è questa, il task è appunto un compito e quindi avere contemporaneamente e seguire e mirare a svolgere più compiti contemporaneamente è un processo che richiede la presenza di un altro fenomeno che è l'automatizzazione, il rendere automatico lo svolgimento di alcuni compiti senza bisogno di avere a pieno la propria attenzione. Questo è un fenomeno che noi conosciamo nel momento in cui possiamo stare al telefono e digitare e scrivere una mail sulla tastiera del computer, per chi guida è altrettanto normale guidare e parlare con un'altra persona e ci sono tantissimi altri esempi di multitasking. Secondo il video che io vi ho mandato, ovviamente va da sé un processo di automatizzazione comporta una riduzione di energie da parte del nostro cervello, il nostro cervello può ed è libero di fare altre cose se un processo è automatizzato. Quindi dicevamo l'automatizzazione e dei processi è uno dei fenomeni studiati appunto a proposito dell'attenzione. Nel video di approfondimento che vi avevo segnalato nella scheda che inizia con psicologia cognitiva nell'ultima parte del primo foglio la domanda è il multitasking funziona? Guarda il video e rispondi. Appunto direi che siamo e abbiamo dato le informazioni più importanti che riguardano appunto il fenomeno dell'attenzione interessanti e qui chiudo questo video anche gli effetti Stroop Simon e Navon che ci fanno vedere attraverso degli studi sperimentali quindi in questo caso vengono chiamati in causa i tempi di reazione quindi la maniera e i tempi in cui noi rispondiamo ad uno stimolo che ci viene dato questi tre effetti che sono appunto descritti dal video che vi ho segnalato sono altrettanti come posso dire altrettante testimonianze di come funzioni e di come sia complesso il meccanismo dell'attenzione. Buon lavoro ci vediamo alla seconda parte di questa video lezione che sarà dedicata alla percezione. Buon lavoro e buono studio!